Tu, come Ibramini e Itacur, imparerai a leggere e a scrivere. Papà? Ehi! Bollo. No, tocca a me! No, l'hai tenuto giù! Ehi, buoni! Ehi, ehi, ehi! La smettete di litigare, per favore! Tu, prangi la scopa! Chi te l'ha fatto? È stato il maestro. Dobbiamo andarcene da qui. Andarcene da qui? E dove possiamo andare? Figlia mia! Papà! Giulia, tuo padre ha avuto un incidente. Siamo pieni di debiti. E che ne sarà di noi? Temo di non avere buone notizie. La nonna ha avuto lo stesso problema. Tuo padre sta lottando tra la vita e la morte! E' coglia! Le Amazon. Queste donne dell'antichità erano un temuto e rispettato popolo di guerriere. Combatterono numerose battaglie e ne vinsero molte. Gli storici dibattono sulle loro origini, ma per parecchi le Amazon rimangono un mistero. La chagorra della squadra di woce 12. Per acessore, la Catalina prend각are la chagatria quando lo sovi.